Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video In uno dei video più recenti vi avevo parlato di questo particolare video che avevo in mente riguardo al concept del cattura di tutti in Pokémon Parlando del dono segreto avevo infatti messo in luce già in quel video come le critiche a spade e scudo secondo le quali questi giochi avrebbero tradito il molto fondante di Pokémon ossia il Godakatch e Mall per l'appunto la chiappa di tutti erano critiche di fatto infondate perché questo motto è morto molto tempo fa e quest'oggi voglio cercare di spiegarvi le motivazioni e il ragionamento che ci sta dietro a questa affermazione ma prima di iniziare ci tengo a dire una cosa a quei collezionatori seriali di Pokémon che magari mi staranno ascoltando se siete all'ascolto sappiate che in questa prima parte di video probabilmente dirò un sacco di cose che non vi piaceranno ma invito in particolare voi a guardare tutto il video perché alla fine voglio fare un discorso per cercare di salvare in un certo senso il cattura di tutti, la chiappa di tutti e in generale il collezionismo per quanto riguarda il settore videoludico di Pokémon che secondo me è un discorso interessante e potrebbe riappacificare un po' gli animi detto ciò direi che possiamo iniziare effettivamente con l'argomentazione ora faccio una premessa generale, io non sono assolutamente un collezionatore di Pokémon anzi penso di non aver quasi mai finito un Pokédex in vita mia è proprio un aspetto del brand che non mi piace il catturare continuamente Pokémon, l'allevarli per creare uova non mi interessa, sarò molto onesto con voi sono più una persona generalmente competitiva e che dà molta attenzione alla lore del gioco ora che mi sono classificato all'interno dei giocatori Pokémon in generale davvero Pokémon Spada e Scudo sono i primi Pokémon a rinunciare effettivamente al Goda Catch and All? sì, però di fatto, perché in teoria non è affatto così vi basti pensare molto banalmente che dalla seconda generazione in poi quindi ragazzi sono passati 18 anni praticamente il motto Goda Catch and All, quindi in italiano acchiappali tutti è sparito dalle confezioni dei giochi e questa è solo la facciata, è solo l'emblema, è solo la dichiarazione altisonante di quello che poi è successo però in terza generazione perché dalla terza generazione in poi e quando dico dalla terza generazione in poi intendo tutte le generazioni successive praticamente i Pokémon erano sì ottenibili tutti nel senso che c'erano i dati di tutti i Pokémon ma di fatto non potevi catturarli nel gioco e quindi in un Pokémon Smeraldo l'avere tutti i Pokémon voleva dire il cittare alcuni Pokémon capite che qualcosa nel concetto di Goda Catch and All ha smesso di tornare veramente quasi agli albori di Pokémon e poi ragazzi è arrivato lui nelle ultimissime generazioni sesta e settima il dono segreto dono segreto che ti regala letteralmente leggendari perché non sono come gli eventi di Quinta Gen anche banalmente che avevano una mezza lore dietro quindi ci stavano lì è proprio regalarti il Pokémon allora mi dovete spiegare che cos'è il Goda Catch and All cioè dov'è il collezionismo in un titolo in cui in un gioco singolo per avere tutti i Pokémon devi utilizzare il Game Shark e devi modificare il gioco che collezionismo è se mi regali i Pokémon tramite i codici? mi dispiace dirlo ma Pokémon ha smesso prima ufficiosamente in terza generazione e poi clamorosamente in maniera più palese nelle ultime di essere un Goda Catch and All di fatto io credo che Spada e Scudo non abbiano fatto altro che quello che era nell'aria da tantissimo tempo Game Freak nei giochi ha sempre inserito i dati di Pokémon che in teoria non potevano essere ottenuti non dando nessun modo lei Game Freak di ottenere questi Pokémon noi abbiamo trovato dei modi alternativi modificando i giochi ma di fatto Game Freak non li ha mai resi disponibili pur mantenendo all'interno i dati ciò che Spada e Scudo ha fatto non è stato altro che eliminare fisicamente oltre che concettualmente quei dati di quei Pokémon che non sarebbero comunque stati inseriti o più che inseriti in questo caso sarebbe meglio dire ottenibili quello che Spada e Scudo secondo me comunica con questa scelta è che se un Pokémon non è ottenibile non è ottenibile punto e io penso personalmente che sia meglio così lo penso da persona che non ha mai praticato il collezionismo lo penso mettendomi nei panni di un collezionista è forse meglio così è meglio collezionare i Pokémon di Galar piuttosto che giocare un gioco che di collezionismo non ha più nulla perché Pokémon ha smesso di essere collezionismo 18 anni fa poi lo sapete benissimo ragazzi io sono il primo che dice il gioco si interpreta come si vuole ognuno gioca al Pokémon per quello che desidera trovare all'interno di un videogioco però il fatto che Pokémon stia smettendo di avere quella vena che aveva all'inizio nelle prime due generazioni è troppo evidente e questo a di là di tutti i proclami di Masuda e Omori ma in particolare di Masuda che sappiamo non essere proprio brillante a livello comunicativo non sono mai stati ottenibili tutti i Pokémon li abbiamo sempre ottenuti tramite cheat o li abbiamo sempre trasferiti da altri giochi ed è proprio qui però che io voglio fare un appunto riguardante una cosa che è stata snobbata che è stata insultata ma che secondo me è una cosa bellissima e che nonostante tutto nonostante le botte che il collezionismo all'interno del videogioco Pokémon ha subito dono segreto, rimozione dei Pokémon non ottenibilità di tutti i Pokémon dovendo ricorrere ai cheat nonostante tutto questo secondo me potrebbe ancora salvare questo aspetto del brand sto parlando di Pokémon Home io ve lo dico veramente questa parte di video non doveva neanche uscire in teoria ma mentre scrivevo il copione mentre sostenevo che il collezionismo fosse morto completamente che i collezionisti dovessero cercare un altro brand perché Pokémon non poteva più ospitarli mi è venuta una sorta di lampo di genio e ho capito che forse non è così io trovo Pokémon Home una cosa veramente bellissima è un'idea davvero brillante per chi non lo sapesse Pokémon Home è un'applicazione che è stata annunciata da Game Freak per smartphone che permette tramite un pagamento che ora non ricordo sinceramente di quanto sia di trasferire all'interno dell'applicazione stessa i Pokémon provenienti dai titoli per 3DS quindi in questo caso Ultra Soul, Ultra Luna quelli provenienti se non sbaglio da Pokémon Go e dai titoli di Switch e sembrerà strano sentirmelo dire che un'applicazione di questo tipo su smartphone sia una cosa bella ma io credo veramente sia fantastica è come avere un PC portatile ormai lo sappiamo il telefono è uno di quegli oggetti che ci portiamo sempre appresso e io credo che questa sia una soluzione veramente intelligente poter portarti sempre appresso tutti i Pokémon che ti hanno accompagnato in 25 anni di avventure poter vedere esattamente come sono cresciuti all'interno del proprio telefono come se fosse veramente un Pokédex ma finalmente staccato dalle console portato su un'altra piattaforma una piattaforma che è sempre con noi proprio come il Pokédex è sempre con noi all'interno dell'avventura e da questo dispositivo dal telefono da quello che diventerà il Pokédex e da quello che diventerà il nostro PC per ogni gioco che giocheremo per ogni gioco che ci sarà possibile giocare avremo dei Pokémon da scegliere dei Pokémon da mandare all'avventura dei Pokémon da selezionare per mandare nella regione di nonna generazione e per poi riportare su Pokémon Home per prendere una pausa proprio come fosse una home una casa per i propri Pokémon non lo so forse sono io che esagero forse sono io che cerco sempre di vedere il positivo anche dove non c'è forse sono io che cerco sempre i compromessi forse sono io che non mi arrendo a dire che un aspetto del brand è morto può essere ma io dico tutto ciò mettendomi nei panni di un collezionista cercando di pensare a come potrebbe pensare lui abbiamo capito che su console il collezionismo non è più una cosa fattibile abbiamo capito che su console i Pokémon non potranno più essere trasferiti abbiamo capito che i living decks delle persone che si trasferivano di generazione in generazione non sono più fattibili e portarli secondo me sul telefono sul device che abbiamo più vicino a noi che possiamo controllare velocemente anche fuori casa secondo me è un'idea geniale alla quale se solo ci si abituasse in futuro dovremo veramente tanto io lo ripeto un'altra volta a costo di risultare prolisso questa parte di video non doveva esserci perché io non avevo intenzione di farla io avevo intenzione di fare un video in cui la chiusura era se volete giocare collezionismo andate e prendete il trading card game online quello è il trading card game gioco di carte collezionabili quello è collezionismo invece non l'ho più detto non l'ho più detto perché secondo me c'è una speranza per il collezionismo c'è un luogo dove tutti i vostri Pokémon possono andare quel luogo è un'app su telefono e io lo so che la fanbase Pokémon di base è allergica ai telefoni da Pokémon Go in poi ma secondo me ripeto se ci si abituasse questa potrebbe essere un'idea veramente bella e che potrebbe dare veramente un senso a quello che è il collezionismo perché sinceramente fino ad oggi fare collezionismo su un videogioco Pokémon purtroppo non ha mai avuto senso ci tengo a sapere le vostre opinioni qui sotto nei commenti soprattutto se siete una di queste persone che ho chiamato in causa se siete una di queste persone che ha sempre collezionato Pokémon e che con spada e scudo trova la propria via sbarrata fatemi sapere cosa ne pensate di Pokémon Home e se pensate male di Pokémon Home fatemi sapere perché ragioniamone vi chiedo di evitare le polemiche le polemiche riguardo al fatto che potessero mantenere su Nintendo Switch può anche darsi ipoteticamente può anche darsi ma di fatto non è successo e le critiche a Game Freak hanno senso fino a un certo punto possono essere anche qualitativamente scarsi come programmatori non mi interessa non mi interessa non è assolutamente quello il punto di questo video può anche darsi che non siano la più grande casa videoludica della storia ma esattamente come il mio Milan e qua tiro in ballo un esempio esclusivamente personale che da 5 anni non è in grado di stoppare una palla io non posso criticare i giocatori perché i giocatori sono quelli che abbiamo e quindi critichiamoli sì ma comunque ricordiamoci che è grazie a loro che abbiamo quello che abbiamo e quindi per quanto la scelta di non avere tutti i Pokémon su Nintendo Switch possa fare rosicare cerchiamo le alternative non fossilizziamoci quello che stiamo sbagliando a livello di community l'ha già detto anche Seidonia se non sbaglio è proprio quello di fossilizzarsi su quello che avremmo potuto avere e di non cercare una scappatoia a tutto ciò e quindi scusatemi per questa outro infinita di video ma ci tengo veramente a sapere la vostra opinione al di là delle polemiche perché secondo me Pokémon Home potrebbe veramente essere qualcosa di spettacolare che potrei utilizzare anch'io in futuro pur non essendo collezionista per il resto io vi invito ovviamente se il video vi è piaciuto a lasciare un like un commento un'iscrizione al canale se chiaramente non siete ancora iscritti mi raccomando passate dai social per rimanere sempre aggiornati sull'attività al di fuori del canale vi ricordo in particolare come al solito ultimamente Twitch perché su quel social voglio puntare tantissimo per il resto la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'attività al di fuori del canale e noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video ciao ciao